Si è parlato di linfomi a Taranto in un seminario organizzato da AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Un momento di incontro e confronto tra medici e pazienti, ospitato dal Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto. Questo evento dà la possibilità a tutti anche di esprimere le loro domande, le loro perplessità. E siamo grati anche alla Marina Militare di averci ospitato e di averci dato la possibilità di portare questo evento qui a Taranto. Le terapie disponibili, i nuovi percorsi, le domande dei pazienti, le risposte dei medici. Un momento che AIL ha fortemente voluto. È un momento in cui i pazienti possono avere informazioni dirette da parte dei medici al di fuori del contesto ospedaliero dove il tempo è sempre troppo poco per avere risposte. Quindi si dà una concretezza al diritto dell'informazione dei pazienti che così possono essere più consapevoli del loro stato di salute. Di cosa hanno bisogno questi pazienti oggi, soprattutto a Taranto? Hanno bisogno di una guida che è il loro medico, perché molto spesso il medico viene visto un po' come un nemico, tra virgolette, lasciami passare questo termine. Invece loro devono poter vedere nel loro medico un alleato, quindi deve crearsi questa sinergia che è fondamentale, deve andare di pari passo l'empatia da parte del medico verso il paziente con una diagnosi clinica, quindi è importante questa sinergia tra medico e paziente.